Siamo intervenuti a seguito di un incidente con esito sinistro stradale e con esito mortale. Adesso stiamo procedendo ai rilievi e stiamo cercando di capire la dinamica dell'accaduto. Purtroppo non abbiamo testimoni che hanno visto il tutto. Sappiamo che la vittima purtroppo è una persona di sesso maschile dell'età di 57 anni. Non abbiamo ancora la certezza della sua identità perché dobbiamo adesso compiere il riconoscimento, dobbiamo ritracciare eventualmente i familiari.